salve cari amiche ed amici qui ancora una volta il vostro stante gian beh ieri ed oggi anzi oggi oggi ho seguito gli scrutini perché ci sono state lezioni tanto in brasile come in uruguay e ancora non si sa chi ha vinto però danno di ma russo come vincitrice in brasile e uruguay non l'ho seguito però niente interi giornali del mondo stanno pendenti nelle lezioni in brasilia in uruguay io non so perché quelli del movimento 5 stelle avevano detto che ci sarebbero state a corto termine delle elezioni che cosa succederebbe in italia io so che il marcia dei seri problemi con la corruzione che pratica è un'eredità di lula da silva in uruguay non so se le cose sono nella stessa maniera non ho molto seguito la politica sudamericana a quante quanti di voi interessa dirmi qualcosa rispetto però ecco so che ci sono state finalmente delle lezioni cioè finalmente devono rinnovare il potere politico quindi hanno fatto delle lezioni le avevano già fatte e li continueranno a fare e non so con quali risultati ancora devono scrutinare le schede niente poi adesso devo trovare dei temi da fare vi saluto con questo video e da rivederci ho già fatto qualche video ultimamente spero vi piaccia e se no guardatelo e poi sapetemi sapete me lo dire adesso io devo andare a cenare sono le sette mezza faccio questo video saluto mordaci a mordaci appunto un saluto da tutte e tutti di youtube italia e niente non so devo fare qualcosa riguardo le elezioni in brasile e in uruguay si rinnoverà la classe dirigente sarà sempre la stessa no niente siccome ha sentito tutto il giorno di oggi a riguardo di brasile di uruguay sulle votazioni ci dovrò poi fare un pensierino su per intanto vi saluto a tutte e tutti laura pezzino pietro trevisan ciao marco travaglio ciao saluto a tutti ci vediamo alla prossima allora così io voluto fare sapere brasile uruguay oggi alle urne e ancora si deve vedere per lo meno io non sono riuscito a vedere chi ha detto le lezioni in brasile e in uruguay chissà quando noi andremo alle elezioni non lo so spero che abbiano il migliore risultati possibili e per lo meno che rimangano soddisfatti perché c'erano molti reclami tanto dell'opposizione come della maggioranza in brasilia in uruguay ma sempre così quando finisce un mandato beh allora saluti a tutti e ciao